Ben trovati radici della mobilità oggi in centro, doppia manifestazione organizzata dalla rete Kurdistan italiana, previsto un primo presidio a piazza dell'Esquilino dalle 14 alle 15 e 30 e un secondo presidio a piazza di Porta San Giovanni dalle 16 alle 19 e 30, sono possibili chiusure e deviazioni. Aggiornamenti e dettagli su romamobilita.it. Domani dalle 16 all'Olimpico Italia-Inghilterra per il 6 nazioni di rugby. L'area del Foro Italico è servita da 15 linee del trasporto pubblico. Oggi pomeriggio dalle 15 per il campionato di Serie A si gioca Lazio-Bologna. Anche per questo evento sono possibili ralentamenti nell'area del Foro Italico. È tutto per questa edizione.